Musica E dopo l'omaggio al Moscato siamo ritornati per parlare con il professor Roberto Maestri, storico del Medioevo. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, piacere. Allora, lei ha collaborato alla stesura di questo bellissimo volume, La Marca Leramica, ne abbiamo parlato già prima, storia di una regione mancata. Prima di entrare nel dettaglio storico della Marca Leramica, vogliamo spiegare in breve come è diviso il libro, di che cosa si occupa? Sì, allora questo è un libro sicuramente particolare perché affronta le tematiche di questo territorio, della Marca Leramica, quindi lo dico subito, un territorio molto ampio che arriva dalle confini con Vercelli e scende verso la parte meridionale del Piemonte per arrivare anche alla Liguria occidentale. Questo libro è un tentativo nuovo di mettere assieme, di unire la parte puramente storica di un territorio alla parte artistica, ugualmente importante, ma coinvolgendo anche la cosiddetta cultura materiale, quindi si parla dell'enogastronomia, si parla dei prodotti tipici e soprattutto si parla dell'ambiente. Forse per la prima volta si fa un quadro di quello che è l'ambiente di questa grande regione. E di facile lettura perché tutto quanto è diviso in capitoli, quindi si può andare alla ricerca storica, ma si può andare poi a cercare il piatto tipico in due momenti separati, è di facile lettura, diciamo così. Sì, sì, diciamo che è stato scritto in un linguaggio corretto scientificamente, perché questo è il grande problema un po' delle guide turistiche. Questa potrebbe essere chiamata una guida turistica a livello di eccellenza, nel senso che si porta a conoscenza tutti gli aspetti di un territorio, ma in modo leggibile. Un turista d'eccellenza qui trova veramente una summa completa di questo territorio. È una guida turistica con un ampio momento storico, e qui entriamo nel vivo della sua attività. Difatti io leggo qui gli aleramici sviluppo dinastico e aree di influenza di Roberto Maestri. Quindi l'ha letto. Sì, sì, l'ho letto, l'ho scritto assieme alla consulenza anche di grandi altri studiosi, perché chiaramente queste operazioni non possono essere fatte mai a livello del tutto individuale. Quindi io sono presidente di un'associazione culturale in Marchese a Monferrato, che raccoglie un comitato scientifico di esperti che sono in grado oggi di analizzare questo tema così complesso. E quindi abbiamo cercato comunque in poche pagine di raccontare la storia di un territorio, una storia che è durata quasi otto secoli, sette secoli e mezzo. Quindi non era facile. Non era facile anche perché è la storia di un territorio che i cui inizi sono legati a un unico personaggio, che è aleramo, personaggio avvolto in parte dalla leggenda, mentre invece era un personaggio storico a tutti gli effetti. Ma perché questa regione è mancata? Diciamo che non si riesce a tenerla unita. Intanto, vabbè, sono tanti marchesati perché aleramo, la sua dinastia, poi apre a tantissimi figli, nipoti, pronipoti, eccetera, eccetera. Poi arrivano i Savoia, ma anche i Savoia non vanno a giocare su questa territorialità andandola a stringere. Che cosa subentra? Quali sono i motivi storici che portano una regione a non nascere? Esatto. È un problema, come oggi capita ancora ai nostri tempi, e questo è bello portare la storia all'attualità, il timore di un rafforzamento che si costituisca in un'area ai confini con la Lombardia, governata inizialmente dai Visconti di Milano, poi che si trasforma in Ducato di Milano, mentre la parte meridionale è costituita dalla Repubblica di Genova. La politica internazionale, in particolare nel 600, l'impero asburgico e le altre potenze che si confrontano in questo scacchiere geopolitico, prima di tutti la Spagna e la Francia, non hanno nessun interesse ad assistere a un rafforzamento sotto un'unica dinastia di questo territorio, che ha, appunto, come dicevamo all'inizio, delle radici comuni. E diciamo che i due marchesati più potenti che si sviluppano, che sono sicuramente quello di Monferrato, che raccoglie un'area particolarmente consistente, poi quello del marchesato di Saluzzo, che occupa quasi tutta la provincia di Cuneo, potrebbero facilmente fondersi, soprattutto nel 400 e nel 500, perché arriviamo al punto che i marchesi, i reciproci marchesi, sono cugini primi, quindi il passaggio all'unificazione sarebbe quasi immediato. Ma sono proprio le grandi potenze europee che ostacolano questo processo. E quindi si tende sempre di più a conservare questi stati in una forma esclusivamente individuale, limitata come potenza. Problemi che oggi sono della politica attuale, ne sentiamo parlare... Ricorsi e ricorsi storici. Problemi del Caucaso, ecco, non si inventa nulla, assolutamente nulla, la storia è attuale. Quindi in questa parte storica che abbiamo affrontato c'è otto secoli di storia, ma di una storia interessante, che sembra quasi un romanzo, perché poi ci sono dei personaggi di grande valore, non solo in ambito locale, ma in ambito internazionale. Molte volte si dimentica che la storia di questo territorio, di questa marca, è una storia di valenza non solo europea, internazionale, perché di qui partono le grandi imprese verso le crociate e la Terra Santa, parte il rafforzamento del regno normanno di Sicilia, quindi si va in Puglia, e quindi non è la storia di un territorio delimitato da confini precisi. All'epoca siamo al centro del mondo, diciamolo un po', no? Esatto. Esatto, è il mondo conosciuto. Pensiamo che nel 300, poi, agli inizi del 300, nel 1306, sarà una famiglia bizantina, del grande impero bizantino, lo stato più potente del mondo dell'epoca, venire a governare il Marchesato di Monferrato, ad esempio, no? E questo è un altro evento straordinario, che un figlio di un imperatore bizantino si è destinato a governare queste terre. Allora, per saperne di più, per approfondire il discorso sulla marca aleramica, noi vi suggeriamo ancora una volta questo libro, è bello poterlo fare da campana a festa, una trasmissione che si occupa di storia, di folklore, di cultura, ma anche, appunto, di presentazioni interessanti. Questa è la prima che facciamo, ci auguriamo di farne tante, perché è bello conoscere, attraverso chi l'ha studiato, il nostro territorio, la nostra storia, cioè, di lì arriviamo, chissà dove andremo a finire, professor. Corsi e ricorsi storici. D'accordo, grazie. Grazie a lei, complimenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.